Una serata simpatica in compagnia di molte persone. È stata una bellissima serata con tanti salami, tutti molto buoni, però l'importante non è tanto il salame o le donazioni, soprattutto l'importante è aver passato questa bellissima serata insieme ed è una bellissima organizzazione, siamo stati bravi. Un modo per coniugare il divertimento a comunque un impegno sociale tramite la beneficenza? Su questo è certo, quindi fa sempre parte del nostro obiettivo comunque, essere all'interno di quello che è il tessuto sociale, poi dopo la beneficenza e poi dopo l'aggregazione, questo è comunque sempre il nostro intento. Cosa si prova ad aver vinto la gara, aver portato il miglior salame questa sera? È stata una bellissima esperienza, sono molto contento di aver partecipato a questa serata con dei ragazzi speciali come loro e vi ringrazio tutti quanti. Grazie.